Cari amici, in questa situazione così molto difficile di pandemia tutti stiamo soffrendo, ma voglio dirvi che nulla è più grande di questa certezza, che l'amore di Dio è per noi infinito e che questo amore rifluisce anche in ciascuno di noi come comunità. Il dolore ci mette insieme, ci fa sentire una cosa sola. Ed è bello allora che noi condividiamo le parole dell'Angelo alle donne riunite alla tomba di Gesù. Non è qui, è risorto, non abbiate paura, andate. E questo augurio è anche l'invito che viene rivolto a ciascuno di noi. Non abbiamo paura. La morte sarà sconfitta e anche le tenebre vinte dal Signore Gesù risorto. E allora tocca a noi portare a tutti questa gioiosa notizia. Innanzitutto trasformando il nostro cuore e diventando uomini e donne di comunione e di solidarietà piena. Un augurio speciale a tutte le persone che si stanno impegnando a servizio degli altri, nelle diverse categorie, dai medici agli infermieri, alle associazioni di volontariato e tutte le persone che stanno rinascendo. È una sincera vicinanza a tutti coloro che stanno soffrendo per la perdita di persone care. Ci sentiamo però un cuor solo ed un'anima sola. E questa è la testimonianza più bella che possiamo offrire ai nostri fratelli e sorelle. Buona Pasqua a tutti.